Dimmi quindi come reggi sui concerti, ma sembra una roba faticosissima Sulla voce, cioè se io parlo ad un evento, parlo tre giorni Al terzo giorno non parlo più, sono done Perché non ho mai studiato per la respirazione, la gestione della voce È l'inizio di un'intervista a Celine Dion, hai sbagliato persone a chiedere No, però la mia domanda è come fa un cantante a reggere un tour Allora, io che parto da un retaggio che oggettivamente non è da cantante Quando, e avendo iniziato a livello iper amatoriale Quando è iniziata a diventare la mia professione Ho cercato di approfondire il canto e io non si direbbe Ma ho fatto cinque anni di lezioni di canto Che cosa significa? Che ovviamente la voce te la dà la natura Però lo studio ti può dare... ci sono tanti cantanti Ti faccio un esempio di una progressione incredibile Che ha avuto un cantante che non nasce con una voce naturale Alla Whitney Houston, alla Mariah Carey Che è il frontman dei Green Day, Billy Joe Armstrong Billy Joe Armstrong è sempre stato abbastanza intonato Però negli anni ha preso delle ottave Ha imparato ad andare in alto in una maniera incredibile E tu noti dei miglioramenti incredibili E questo ti dà la tecnica Quindi se tu nasci predisposto e studi diventi un mostro Se nel mio caso non nasci predisposto Lo studio ti permette di non perdere la voce Di gestire la tua vocalità Io per esempio ho delle tonalità molto basse Studiando ho imparato a prendere più ottave Quindi se vieni ai concerti rimarrai piacevolmente subito dal fatto che Comunque l'aspettativa essendo pari a zero No ma anche banalmente Cioè tenere... capito? Urlare o tirar su... Cioè dopo un po' la voce va È tutta una questione di respirazione Tu lo sai che i neonati, noi nasciamo Che sappiamo cantare Per assurdo Io neanche da neonato Non è vero Non è vero Ti sei mai chiesto? I neonati strillano, gridano, piangono E non perdono mai la voce È vero Mai Perché nascono A stare Nascono sapendo respirare nella maniera corretta Perché è stato un po' di afframma Negli anni perdiamo la capacità di respirare Di saper respirare correttamente Quindi devi riacquisire Io ho fatto anche logopedia Che è una rottura di palle allucinante Cosa si fa logopedia? Logopedia ti insegna la postura Cioè in questo momento io sto facendo tutte le cose sbagliate per la logopedia Dovresti stare seduto così Ti insegna la posizione della lingua Come pronunciare un certo tipo di parole A me sono rimasto Non ho imparato proprio tutti i segreti della logopedia Però qualcosa mi è rimasto Qualcosa mi è rimasto Ed è utile Ed è utile Senti Sono ancora sotto shock dal documentario che ho visto su Alex Honnold Free solo L'hai per caso visto? Vorrei dire di sì ma no Guarda Mi ha veramente colpito E sono ancora Continuo a dire Ragazzi ho visto questo documentario pazzesco No 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 Non ho idea di chi Praticamente Alex Honnold è un free solo climber Cioè lui va su Scala S'arrampica Senza corde Va su Ah wow Così Senza corde E ha scalato Cos'è il cap Che è una parete Che tu la vedi e dici Qua neanche con l'elicottero puoi andare su Certo E lui ha fatto questo documentario Dove praticamente fa vedere come ha fatto Ed è una roba che dici Cazzo non ci posso credere Mi ha colpito sotto tutti i punti di vista Cioè ti senti un coglione alla fine Quando vedi il documentario così dici Vabbè ma allora io che cosa ci sto a fare Con le mie startuppine, le robe È un personaggio pazzesco e ti capita Guarda Free solo Volentieri Alex Honnold Ti cambia la visione del mondo E quindi sono ancora sotto ciò Credo che cazzo E ha famiglia lui Allora lui Tendenzialmente uno che conduce una vita del genere Bravissimo Infatti questo è uno dei grandi temi E beh certo E praticamente un 1% di quelli che arrampicano Fanno free solo Perché tutti gli altri vanno con la corda E beh certo Lì se sbagli è finita E lui ha una fidanzata Che dorme con lui nel camper Perché questo gira sempre E arrampicano E lei sa tendenzialmente Che ogni volta Ciao ci vediamo stasera per cena A Tinder All'iscrizione su Tinder pronta E dice aspetta Però mi ha colpito molto Ecco su proprio le aspettative L'ambizione Non so Comunque E Senti no Sono apprezzo che sei venuto Nonostante sei in piena concertistica Ecco Perché comunque Insomma è un bello Un bello sbatti Girare Devo dire I concerti è la cosa del mio lavoro Che mi pesa di meno In assoluto Proprio la cosa più liberata Ho imparato negli anni A godermela Perché io Non nasco come una persona Realmente poco espansiva Poco estroversa E con gli anni ho imparato A invece A liberarmi sul palco A viverlo come un momento Di vera liberazione Cosa che non nasce Nel mio caso Nel mio caso non è nata Da subito Però ad oggi Riesco veramente A godermi Ma Come funziona? Cioè se tu devi preparare un tour Da dove parti? Dici Ok Faccio 10 tappe 100 tappe 20 tappe Dipende Dipende da che periodo sei Della tua vita In questo caso Io venivo Da Vengo Da 4 anni di tour Ininterrotti Io non mi sono mai fermato È da 6 anni Che non mi fermo E non mi prendo una pausa Quindi l'esigenza era Di fare qualcosa di nuovo Sia discograficamente Che Soprattutto nel live E di conseguenza Era C'era il Fare qualcosa Di realmente speciale Di mai fatto in Italia E quindi quello che ho fatto In questo tour È andare a prendere Dei ragazzi Italiani Che per esigenze E opportunità lavorative Sono andati a lavorare All'estero Sono dei visual designer Che lavorano per I più grandi DJ internazionali Da Martin Garrix Hanno fatto Il tour attuale Di Post Malone E implorandoli In un certo senso Post Malone era Era Londra l'altro giorno Sì era Londra Però penso che abbia fatto Una piccola discoteca Il Toy Room E il E quindi abbiamo creato Uno show nuovo Sicuramente in Italia Qualcosa di Di nuovo Ma anche In termini internazionali Ci sono arrivati Dei buoni feedback Scusa ma Sei riuscito a mettere Lo schermo Quello davanti Super interattivo Abbiamo utilizzato Questo nuovo Lead wall Completamente trasparente E quindi noi Abbiamo un lead wall Davanti a me E un lead wall Dietro di me E quindi riusciamo a giocare Sulle tridimensionalità Degli oggetti Realmente noi abbiamo Uno show Holografico Che non abbiamo inventato noi Perché c'è un DJ Molto famoso Si chiama prize L'ispirazione nasce da quello Questo DJ internazionale Si chiama prize Che fa uno show Chiamato hologram Che sendo un DJ Deve stare in console Quindi è tutto visual Noi abbiamo giocato Di più sulle interazioni Quindi tramite Delle nuove Tecnologie Che sono Il notch E un tracking Quindi io ho Tutti i miei vestiti Sono cablati Con un tracking E io posso spostare Le grafiche Che sono davanti a me È molto Molto bello Per cui scuola Tu sei lì Hai schermo dietro Io sono il pubblico E hai schermo davanti a me È anche ai lati È un cubo È un cubo Ed è molto bello C'è una scena In cui c'è una griglia E io mi avvicino A questa griglia E la griglia Esce fuori In base ai miei spostamenti E la sensazione Che tu hai È realmente Di tridimensionalità Perché un tempo Dovevi fare Tutta la proiezione Con gli ologrammi Gli specchi Era un cazzo di casino Fare sta roba qua Non ho idea Di come si facesse Nel pregresso E spostarlo Sto aggeggione È un casino Costa un triliardo O è una roba È costoso E si fa Però è Si fa L'effetto Dice un effetto forte Molto bello Molto bello Sono molto soddisfatto E invece È la pianificazione Di un tour Da dove parti Tu dici Ok Dipende dal momento In cui sei nella vita Quindi se c'hai voglia Di sbatterti O no Insomma Tendenzialmente sì Ma poi L'atto proprio Imprenditoriale Come lo affronti Dici ok Minimo Non so 10 tappe 20 tappe Dal mero punto di vista Imprenditoriale Non artistico Intendi Ma io sono Io sono un artista Un po' atipico Su tante cose Nel senso che ho Dal punto di vista Imprenditoriale Ho fatto Sono stato Un paradigma Per tante cose Io Molti si associano A delle agenzie Molto grandi Io Nel momento Sono anche abbastanza conosciuto Per essere un po' Un guerrafondaio Davanti alle ingiustizie La mia prima esperienza Con una grande azienda Di booking È finita in causa Sono stato l'unico artista A far cap Perché c'erano A tutti gli effetti Delle cose che non tornavano Poi non posso fare Asserzioni diverse Perché poi si è Si è messo tutto È tutto andato in pace E quindi All'inizio tu hai preso Un'agenzia che gestiva il tour Sì vabbè Senza partire dalla gavetta Inizialmente si va nei centri sociali Si va in localini Quando inizi a fare delle vere e proprie produzioni Io nella mia prima posizione Tu deleghi Delegando Entri in un altro settore Seppur riguarda la concertistica La musica Entri in un altro mondo Fatto di tanti cavilli Tanti sotterfugi Ok A me piace conoscere le cose E Essendo partito realmente dal niente Mi dà molto fastidio Non Non sapere cosa accade intorno a me Io devo essere sempre a conoscenza di tutto Devo sapere tutto quello che succede E quindi Dopo questa parentesi Ho conosciuto un ragazzo Che ha la mia stessa età Che si chiama Clemente Zard Figlio di David Zard Che è celebre per aver fatto Storico Portato per la prima volta Michael Jackson in Italia È un personaggio incredibile E ho dato fiducia a questo ragazzo E sono stato il primo artista Con cui ho lavorato E lui ad oggi Ha la più grande agenzia Di booking in Italia Quando dici booking È solamente la gestione dei biglietti O anche l'organizzazione? No biglietti Ticketing Loro sono un joint venture con TicketOne Ok Però in teoria C'era un accordo Chiamato Paninsky Che fecero Paninsky Cazzo Questa è fantastica Cos'è l'accordo Paninsky? L'arrivo di TicketOne In Italia Multinazionale tedesca Per imporsi sul mercato Fece un accordo Con le altre agenzie di booking Italiane Che ovviamente Quando arrivò TicketOne Che faceva anche booking Il culetto di queste agenzie Inizia a diventare stretto stretto E allora fecero questo accordo Dove in sostanza si diceva Accordo Paninsky Tu TicketOne Vendi biglietti Ti do Posso garantirti in qualche modo Il monopolio del ticketing Ma tu Non farai mai booking Accordo che Da poco è scaduto Ok E invece Quando dici booking È proprio la location Prenotare gli spazi E mettere in piedi una produzione Mettere tutta la produzione Poi tu decidi Se Comprare il palazzetto Affittare il palazzetto O se venderlo a terzi Ok Ok Questo è E c'è un numero minimo Di concerti Dove tu dici Ok Ha senso quest'operazione economicamente Scusami La domanda preliminare è Un ignorante Che non sa niente di musica E dice Ok Io voglio fare Il cantante Perché magari è uno bravo Forte E dice Dov'è che guadagno oggi? Cioè guadagno col live streaming Guadagno con i live Guadagno con i gadget Dov'è che guadagno? Per quanto possa essere assurda L'asserzione che sto per fare Non bisognerebbe partire Da questo principio Ok Nel senso Io quando ho iniziato a fare musica Da molto piccolo A 16 anni Quando ho iniziato ad approcciarmi Al mondo del rap Al mondo del freestyle Inizialmente Non avevamo Dei riferimenti Che ci portassero a pensare Facciamo questa cosa Per vivere Non so come dire Quindi la prima esigenza Che mi ha spinto A fare musica Era veramente Era semplice spirito Di aggregazione Cioè cercare nuovi amici Può sembrare assurdo Però aveva un grande valore Per i tempi Poi quando Inizia a diventare un lavoro Se vuoi sapere Da cosa si guadagna Ho visto Una tua intervista Un'intervista Che hai fatto Al buon Di Chele Dove diceva Dalla discografia Non si guadagna Si guadagna Si guadagna solo Chi fa X fatto L'ha detto Il riferimento Puramente casuale Ti ha colpito Questa cosa Non è vero No mi ha colpito Perché non è vero Cioè innanzitutto Dipende che gol hai tu Nella vita E dipende anche Che numeri fai Innanzitutto E come dire Un autore di un libro Guadagna o non guadagna Beh insomma Harry Potter Puoi guadagnare Da tante cose In Italia C'è un retaggio Culturale Per il quale L'artista Che guadagna Non solo Dalla musica E quindi fa commercial Pubblicità Sponsorizzazioni E ancora Difficile Io ho cercato In qualche modo Di sdoganare Questa cosa È difficile Perché È come se tu Aggiungessi un disvalore Alla tua musica E togliessi Dignità Alla tua musica Cosa che per il retaggio Americano È completamente Inesistente No no È completamente l'opposto Più tu fai Più il tuo valore cresce Diciamo Visione che condivido Peraltro Quindi Non E se tu dovessi dire La torta complessiva Di un artista Oggi Di successo Da dove arrivano I suoi flussi Quali sono le entrate Principali Un artista Normale Canonico Anche internazionale Dici Eminem Guadagna È diverso È diverso È molto diverso In Italia Un artista Tradizionale Secondo me Può guadagnare Cioè La parte preponderante Dei suoi guadagni Derivano Dalla Dalla concertistica E dal contratto E dall'anticipo discografico Ok Dici quello è L'80% Insomma Delle sue cose E 20% Altre robe Testimonial Gadget Dipende Poi nel mio caso Non ti saprei dire Per esempio Non è difficile Te lo chiedo Perché è incredibile Quanto ci sia Grande ignoranza In generale Su Quali sono le modalità No Di Di Perché un tempo Era facile Noi diceva Se faccio Non so L'autore del libro Guadagno Il suo core business Per esempio Vende pochissimi dischi Il suo core business È il merchandising Lui guadagna Un sacco di soldi Dal merchandising Ogni artista è diverso Ogni artista è diverso Peraltro vedevo Logan Paul Invece lo youtuber Lui fatturava Decine di milioni Con il merchandising Magliette Magliette O Diciamo Tutta quella parte lì Sì 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 Quello che tu pensi Che sia il suo modello Di business principale In realtà Non è il suo modello Di business principale Noi questa è la cosa Sì In Italia è ancora difficile Avere questa cosa Perché c'è molta Reticenza Nel cogliere Una dignità Un lavoro E una capacità Io sono un grande fan Di Malcolm McLaren Malcolm McLaren È stato Negli anni 70 Nel periodo Delle factory Di Andy Warhol Dei Ramones Nasce come Lo stilista Dei New York Dolls Che sono Una band Celebre Perché andava Sul palco Vestiti da donna No E Malcolm McLaren A un certo punto Si vuole mettere in proprio E dice Io voglio diventare Il manager Di una grande band Che formo io da zero Vesto io Gli dico io Cosa fare Lui crea I Sex Pistols Wow Ok Malcolm McLaren Seguiva una corrente Filosofica Che si chiama Era un situazionista Situazionismo I Sex Pistols È una cosa Che a me sembra assurda Magari lo sanno tutti Però io Quando l'ho scoperto Ho detto È assurdo I Sex Pistols In una loro carriera Non voglio sparare numeri a caso Però hanno fatto 10-15 canzoni Massimo 20 canzoni Questa è una band Che con 20 canzoni Hanno fatto la storia Sono rimasti E hanno lasciato il segno No E a mio parere E non lo dico Come se fosse un disvalore A mio parere I Sex Pistols Sono la prima boy band Mai esistita Ma no E Malcolm McLaren Ha insegnato la discografia Che il marketing Ha la stessa dignità Ed è arte Può essere arte Tanto quanto la musica Malcolm McLaren Riusciva A far diventare Sempre più grosso Il fenomeno Sex Pistols Da un concerto annullato Che da un sold out Da come si vestivano Rispetto alla musica Vera e propria Perché non erano Dei bravi musicisti Oggettivamente loro Però è riuscito A creare Una sensazione Un clamore Intorno a loro Che Ha aggiunto dignità Per assurdo La loro musica E Malcolm McLaren Secondo me Ha insegnato In un periodo Di grande libertà Di grande libertà discografica Che il marketing Oltre a essere parte Integrante della musica È arte Tanto quanto la musica Questa è un po' La mia visione Ed è difficile Farla collimare In un paese Come lì Certo Perché sembra sempre Che sporchino Quella che è La creatività Ti faccio un grande esempio Dove Io sono stato Molto combattuto Io ho fatto Un brano dedicato A mio figlio E Peraltro Un anno da poco Auguri Io non ho quattro E quindi Un brano che ho scritto Realmente senza pensare A logiche di Mercato Perché è un brano Totalmente reazionario Lentissimo Cioè proprio Completamente fuori Dalla logica Dello streaming E delle vendite A un certo punto Però Vengo contattato Da Samsung Non per il brano Come testimonial E mi chiedono Una cosa Che si fa quotidianamente Con qualsiasi artista Che viene fatta Da 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 Chiunque Mi viene chiesto Di fare la sincronizzazione Del brano Nella pubblicità Questo per me È sintomo Semplicemente Di poter veicolare A più persone possibili Di far ascoltare A più persone possibili Quella tipologia di brano Io devo dire Sinceramente Di aver notato Dalle persone Da 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 Quello che Mi Mi Scrivevano le persone Hai svenduto Il brano Che hai dedicato Tuo figlio A un brand E non è questa Cioè io Il deal Con Samsung L'avrei chiuso A prescindere Quella era una cosa In più Che non mi ha Non mi ha Dato l'economia Che comunque Avrei preso Però per me Era importante In quel momento Avere un canale in più Per poter veicolare La mia musica In America Per esempio Questa cosa Cioè sarebbe passata Totalmente In Sì sì È un non problema Anzi sarebbe stata Una figata Per assurdo Dire che Un brand come Samsung Prende quell'artista Cioè Benny Benassi Benny Benassi È uno dei pochi artisti italiani Che ha vinto Un Un Grammy No Come l'ha vinto Il Grammy Benny Benassi L'ha vinto Facendo il remix Di una canzone Dei Public Enemy Che è diventata Famosa in America Per uno spot Dei cereali Che se tu Però vedi Tu lo dici in Italia Ti viene da ridere Ma in America Non è così Tu puoi vincere un Grammy Perché vai mainstream A quel punto Porti al grande pubblico Quel tipo di pezzo Io sfido chiunque A dire che Benny Benassi Non sia uno di quegli artisti Che in Italia Dall'Italia È riuscito A andare oltre confine Spatriare E vincere un Gacchi Chi vince il Grammy in Italia Il Morricone Hai ragione Però posso dirti Che questo approccio C'è anche Nel settore del business Se tu parli con Non so Degli sviluppatori I programmatori Che magari sviluppano Un software Nel momento in cui Poi entra il marketing E dici Ok C'è questo prodotto qua A questo punto Dobbiamo farlo conoscere La reticenza è enorme Perché uno dice Allora lo sporchi No ma noi invece Non siamo capito Siamo diversi dagli altri Oppure pensa Non so Conor McGregor Un po' di tempo fa Certo Il MMA Il fatto che lui Sia stato così bravo Lato marketing Lui ha sempre detto Io 50% del tempo Sono un combattente 50% del tempo Sono i marketing Perché senza Senza uno Io Non posso far conoscere La mia abilità E senza la mia abilità Il marketing È inutile Oltre al fatto che Il tempo scorre Più botte prendo E meno riesco A andare avanti Però il fatto Che lui sia stato Così bravo A promuovere Se stesso Peraltro La sua azienda Di whisky Adesso vale tipo Un billion Cioè Digià È uno veramente Capace Questo ha Molto Sporcato Rispetto agli addetti Lavori La visione sua Come combattente Come dire Sì sì È solo uno Bravo a fare marketing Tu dici Eh sì Perché alla fine In Europa O nel mondo Se tu guardi Quando si parla Non so Senti commenti Tra Non percepisco Questa cosa Anzi Perché alla fine Anzi uno come Mike Weber Che vive di questo Certo In America È portato su un palmo di mano Assolutamente Poi che sia tamarro Opulento E tutte cose Sono tutte Però è per dirti Che questa Il pregiudizio Nei confronti del marketing C'è in tutti i settori Perché l'idea È che a quel punto Capito Hai bisogno di Se tu fossi Veramente un fenomeno Non hai bisogno di marketing Che è una gran cazzata Perché in realtà Non è così Se non in casi rarissimi Non so A me è una cosa Che piace fare Quindi non Non è una forzatura Per me A me piace costruire Io negli anni Nel settore Come imprenditore Se proprio così Voglio chiamarmi Quello che sono riuscito a fare È creare Anche delle belle campagne Di marketing Creare delle case history Io sono Fatto delle campagne Faccio degli esempi Baci Perugina Sembra una cazzata Però sapere che La campagna marketing Che tu hai Io faccio anche consulenze La campagna di marketing Che tu hai costruito Ha fatto fatturare Il 50% in più Rispetto all'anno pregresso Ma per me È motivo d'orgoglio Tanto quanto Fare un album di successo Non so come dire Dimmi dove vedi La comunicazione Oggi spostarsi Perché Io ti seguo Lato Non tanto Lato musicale Ma lato Proprio comunicazione Lato imprenditoriale Mi ha sempre Mi ha sempre molto Così Interessato Intriguing Come si dice in inglese Ho trovato Ho trovato sempre Molto interessante Come ti muovi E hai dei posti Dove sei molto più avanti Degli altri Cioè Instagram stories Quando già facevi Dei numeri Molto importanti Magari in Italia Avevi aziende Che dicevano Ma Instagram È una cagata Io faccio fatica Tuttora a spiegare Alle aziende Come l'Instagram stories Converta molto di più Rispetto a un post Per esempio Certo E lo dico nel bene Dell'azienda Perché se Tu azienda Vieni da me E mi dici Voglio il post Io te lo faccio Io cerco però Sempre di portare a casa Il risultato Perché Se le aziende tornano È perché io porto a casa Il risultato E quindi non devo mai Fallire sotto quel punto di vista Se no dopo un po' I rubinetti si chiudono Quali sono i posti Più interessanti Che tu vedi oggi Online In che senso? Come social Come piattaforme Ma in questo momento È solo Instagram Anche perché In Italia Facebook È diventato un po' La cloaca E la pancia Più bassa del paese Quindi è difficile Non incappare In In Facili polemiche Sterili polemiche Inutili Peraltro scandalo Ieri notte Clamoroso su Facebook Che hanno tenuto Le password In chiaro Alcuni account Deci milioni di account Le password Nel database Erano in chiaro Quindi tu vedevi I dipendenti Di Facebook Altro scandalo Pazzesco Quindi tu dici Instagram è il posto È il posto caldo In questo momento sì Penso che ci sia bisogno Di me per dirlo Secondo me sì Cioè il mio lavoro Il mio lavoro Tolta la musica È su Instagram Come talent Come lo vivi Io sto martellando Di Instagram TV Da quando hanno messo L'anteprima nel feed Io sono stato Nella serie di Instagram A San Francisco Ci siamo confrontati Mi hanno fatto Dei questionari Per capire Cosa ne pensavo Psicologici Sì sì Facevo le domande E mi dicevano Ma perché hai fatto Questa domanda E mi hanno fatto percepire Che anche per loro Instagram TV È molto Molto indietro Rispetto agli altri contenuti Che puoi creare Però la visibilità Che stanno dando All'anteprima nel feed È enorme Sì 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 E ma è proprio Perché vogliono Spindola Perché vogliono Sì sì Ancora indietro Rispetto a YouTube Altri post invece Twitch Bazzichi Twitch No Non sono È più da Gaming Gaming Neanche come esperimenti Come test Non ho mai Approcciato Quel tipo di piattaforma TikTok È già entrato Nel tuo radar o no? Sono troppo vecchio Ok È quello che balli E canti e balli Canti e balli Però Ho visto l'altro giorno Il grafico di crescita Va buuu Eh no Posso immaginare Ma non è Non sono nel Non rientro nel target Evidentemente Numero incredibili A volte io vedo Sti numeri Poi in Cina Sono stato in Cina Tre settimane Qualche mese fa Nei numeri Cioè il primo pirla Che passa per strada Dici ma C'ho un'app anch'io Eh Quanti utenti fa Solo 80 milioni Purtroppo non siamo ancora Dico 80 milioni Non sono male Per cui sei Instacentrico al momento Io sì Sì Cioè io Lavoro su tanti piani Sui social network Se proprio Cioè il Il mio core È su Instagram Sicuramente A livello di produzione Invece i contenuti Come fai a sfornare Questa quantità Di contenuti In che senso? Beh Proprio Cioè Post Foto Video Story Io so che c'è molta dietrologia Intorno a me La mia famiglia La verità È che noi In un periodo Cioè Avrai un team di persone dietro? No Un cazzo di nessuno Cioè Che mi pubblicano le cose? Qualcuno Che Chi ti fa la foto? Qualcuno Sì Cioè Amici Io Ho la mia leica Dico Fammi la foto Non ci credo Guarda Leone Dici Leone Fammi una foto Quando sarà più grande Verrà sfruttato Wow No no È così Ma sai Facendo un parallelismo Con la discografia Questo è un periodo discografico In cui La musica vive molto Attraverso il personaggio E a volte Il personaggio Diventa molto più forte Della musica Faccio un esempio Lil Pump Artista Che sui social Su Instagram È fortissimo Lil Pump Col cappello viola? Lil Pump E quello Con le tre Scine Quello di Gucci Gang Lui Rimane fortissimo Sui social L'ultimo disco È andato molto Molto male Con le vendite Però rimane molto forte Perché Il personaggio Ha superato Forse L'artista Ok In un periodo In cui Vive molto Di personaggio È brutto dire Costruito Però Di personaggio Macchiettistico Nel nostro caso Il nostro personaggio Coincide realmente Con le nostre persone Perché Per noi È facile Cioè Siamo a tavola Ci facciamo una foto A tavola Cioè raccontiamo La nostra giornata Quindi Per noi È molto semplice E non è Non è Per noi Non è lavoro Quella cosa lì Ok Il lavoro è altro Ecco Però in generale La qualità Hai degli amici Molto capaci Allora Ma tu dici In termini di foto Ma anche la qualità Sono bravo a modificarle C'hai tutti i filtri Può essere Forte Pensa Avrei pensato Che avevi comunque Un team C'è un americano Si chiama Gary Vaynerchuk Settore mio Business E roba così E lui ha 25 persone Sul suo brand personale Per fargli le foto No Per fare produzione Di contenuti Che sono Video Montaggi Grafiche Animazioni Tutto quello che sono Montaggi del tour Vabbè certo Ovviamente avrai Con i brand E le società Che fanno Le vere proprie produzioni Ovviamente Però diciamo Sul day by day Così Niente Non c'hai un videomaker Dietro che ti segue Ma no Che padre Grande Ma questa è una gran cosa Anche perché La percezione all'esterno È completamente diversa Ma la percezione all'esterno È Mi rendo conto Possa essere Molto al di fuori Della realtà La verità È che È molto più semplice Di come si può pensare Sotto questo punto di vista Cioè la nostra La quotidianità Che raccontiamo È realmente La nostra quotidianità Se no dovremmo vivere Due vite parallele Completamente diverse Che poi non è sostenibile Dopo un po' Poi Partiti rompi i coglioni Il rischio bipolarità È altissimo E poi dopo un po' Uno ti sgama Cioè Non è più possibile Fare Qualche cosa Che non sei tu Ma San Siro Com'è? Riempire San Siro Pazzesco Ecco Per quanto riguarda Per quanto riguarda La voce a San Siro Penso che ha fatto Una delle performance Vocali più brutte Della mia vita Eppure È un'esperienza incredibile È un'esperienza Molto Bella Irripetibile Spero si possa ripetere Ma Per ora Irripetibile Ed è È difficile Da spiegare Però È stata una Una serata Molto 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 Bell Però Chiedo Perché ho fatto un video su Vasco L'altro giorno mi sono intrippato Ho detto Voglio fare un'analisi Del perché Vasco Per 40 anni Vasco è l'unica garanzia Che esiste in discografia È una garanzia Fare Sei San Siro di fila E li continua a fare È un casino Cioè a me non è venuto in mente Nessuno Capace di riempire È una garanzia Lui È una garanzia Per cui È enorme Enorme Poi sai Io me lo ricordo Vasco da bambino E ai tempi No Vasco era Cioè se lo ascoltavi Non ti guardava come dire Allora ti droghi anche tu Era un po' Quella sensazione lei È forte Ho visto un Moby L'altra cosa che volevo dirti Che mi ha colpito No Moby Sì sì conosco E lui è uscito In esclusiva Col suo ultimo album Su Calm Che è un'app Di meditazione Lui è sempre stato un po' Spirituale Infatti ho detto Guarda gliela assegno la fede Perché ecco Mi sembra una Un'astuta mossa In pratica Calm è un'app Che ha 45 milioni di utenti Per cui non sono piccolini Hanno preso 88 milioni di funding Per cui hanno grano Da spendere in promozioni E lui ha fatto St'operazione astuta Ha fatto un album Che è sul tema meditazione Certo Quindi se sei Un concept album È perfetto 30 giorni in esclusiva Su Calm Per cui Calm Gli avrà dato del grano Certo E in più Hanno un'esclusiva Che è perfetta Per i propri utenti E in più Per Mobi È un pubblico Assolutamente in target Su quel tipo di album E poi dopo 30 giorni Lui ci fa quello che vuole Quindi mette Spotify YouTube Eccetera E allora ragionavo Sul fatto che oggi Tu hai 100 L'altro giorno Ho scelto una statistica Che ci sono 100 unicorni Cioè 100 aziende Da un billion di valore Unicorni Sì Si chiama unicorn Sono quelle robe Che fai c'è Un unicorn Il tricorno Il megacorno Ci sono 100 unicorni 100 hundred unicorni Che valgono almeno Un billion Che non vuol dire Che fatturino Un billion E la valutazione Un billion Poi potrebbe essere Di meno di più Però a quel punto Tu per dire Esci col prossimo album E oltre ai soliti Facebook Amazon Google I grossi Hai magari capito L'app di turno Che è perfettamente in target E anche questo è difficile da fare Non pensare che Io ci ho già pensato A fare una cosa del genere In Italia è molto difficile All'estero è molto più semplice Allora ti faccio un esempio Io per questo album Quest'ultimo album Io volevo Avesse una vita molto corta Infatti ho fatto uscire Un singolo Poi tre singoli di botta E poi ho detto Non ci sono più singoli Finito qua Perché ho bisogno Di prendermi una pausa Volevo farlo Per voltare pagina Era una mia esigenza Un disco dove ho sperimentato Per me È un disco sperimentale Per il mio punto di vista Per il mio concetto Di sperimentazione E ho sperimentato Anche il marketing Quindi ho fatto Delle vendite strane Cioè In un mercato Che è preponderante Streaming Io ho dirottato Tutto sul fisico Ho cercato di ridare vita Al fisico Come? Copiando Non so se palesemente Perché in realtà Sapevo che Travis Scott No davvero non lo so Hai chiamato Ti copio esattamente No so che Travis Scott Aveva fatto Un'attività simile Col suo disco Ovvero Però non so se lui Regalasse il merchandising Mi sembra di sì Perché Nicki Minaj Si incazzò con lui Proprio per questo Lui sostanzialmente Ti dava il suo merchandising Il regalo col disco Ok Che è Quello che ho cercato di fare Io è stata la stessa cosa Essendo Collaborando Da un anno e mezzo Più o meno con Diesel Mi sono fatto aprire Una produzione Di merchandising Però una produzione Molto alta E quindi Con il disco Noi Io ti regalavo La mia felpa Mi sembrava un'operazione Molto dignitosa Perché ultimamente Erano uscite Delle case history Di artisti che dicevano Chi compra dieci dischi Vado a casa sua A trovarlo Questo vuol dire Far spendere alle famiglie Magari 200 euro Per prendere Dieci Cioè Lo stesso disco Mi sembrava un'operazione Un po' Opinabile Bravo Esatto Borderline Allora Mi sembrava un ottimo modo Per fidelizzare il mio pubblico Per regalare E restituire Perché è stata un'operazione Molto costosa Perché io compro Vengo in negozio Compro il cd No Era difficile Sotto questo punto di vista Perché non avevamo Una distribuzione capillare Ok Siamo partiti da 20.000 capi Pensando Ho detto Vabbè Cioè Alla fine La Quello che si può contestare È non stai vendendo il disco Ma stai vendendo il merchandising Però in verità Il merchandising È il titolo del disco Quindi uno Se non è fan tuo E non vuole ascoltare il disco Perché si dovrebbe comprare La felpa Quindi abbiamo aperto L'ho dato ad un e-commerce Che è Team World Che è un e-commerce Perché in Italia Per poter entrare in classifica Devi passare Da dei rivenditori certificati GFK Fimi Ok Quindi noi siamo andati Su Team World Che questo e-commerce Però molto piccolo Nasce come fan club Dei One Direction Ci aspettavamo di fare Delle moli piccole Di vendere Se facevamo Se avessimo fatto 20.000 in una settimana Per noi sarebbe Già Era una case history Importante Per il mercato italiano Saper dirottare sul fisico Dal momento in cui il fisico È morto fondamentalmente Alla fine abbiamo venduto 49.000 capi Se ne avessi avuti 100.000 Ne avrei venduti 100.000 Se ne avessi avuti 200.000 Ne avrei venduti 200.000 In due settimane Il problema qual è? Che poi Inizi ad avere Parecchie frizioni In Italia Perché Ti contestano i dati A me Addirittura Mi hanno fatto uscire Delle notizie Dove hanno detto Che io mi sono comprato Gli streaming E' uscito Questa sorta Di mini scandalo Che fortunatamente Non è esploso Perché non c'erano Le fondamenta Il giorno in cui Mi arriva Il report di vendite Ogni venerdì Mi si dice Hai venduto 49.000 di fisico Quindi sarebbe Già disco di plati In una settimana E di streaming 3.000 Avendo dirottato Tutto sul fisico E avendo immesso Nel mercato 49.000 copie Le persone Lo streaming Non lo streamano Perché si ascoltano Il fisico E quindi Io sapevo già Che lo streaming Sarebbe in qualche modo Andato male Non era un'operazione Di questo Perché le hai direzionate Sul fisico Certo E questo fa sì Che poi il disco Nelle settimane Non dura Perché la vita Dei dischi E la lunghezza La longevità Del disco In questo momento È data dallo streaming Perché poi A un certo punto Tu vendi Grazie agli in store Le copie fisiche E poi vai avanti Nei mesi Con lo streaming Avendo io dirottato Tutto sul fisico Non avevo quello Quindi sapevo benissimo Che la vita Di questo album Sarebbe stata ridotta Però era un esperimento Interessante Da fare Interessante per tutti In Italia Non c'è questo spirito Di Facciamo delle cose nuove No E quindi Mi hanno contestato Degli streaming Dicendo che Alcuni utenti E allora ho detto Perfetto Quantificatemi Questi streaming Io non li voglio Perché io Anche senza quelli Insomma Si è cercato Di sporcare il risultato In qualche modo Però la tua operazione L'avevi già fatta E la logistica Quindi Per mandare Poi la felpa Perché poi uno C'è lo small C'è lo medium No però Cioè è un cinema Si è nezionabile La taglia Ah ok Quindi tutto fatto Direttamente Ok Però è un È un cinema No è una cosa Completamente nuova Che vedrai Te lo firmo qua Replicheranno in tanti Ma è un tool nuovo È un'opportunità nuova Per fare delle cose nuove La discografia Non è un mercato Che in prospettiva In questo momento Può vivere a lungo Quindi ci vogliono Nuove idee Per farlo vivere E si parte anche Da queste cose qua Però io visto Poi andavi anche Negli store E anche negli store Poi c'avevi Le felpe Che No La gente che se l'era comprata Ah ok Perché portavamo Negli store Portavamo un tir Con le rimanenze Sì ma guarda Ma è stato E io ho perso Arrivai col tir dietro Con le rimanenze Arrivamo col tir E io dovevo Dovevo capire Le rimanenze che avevo Per poi Per evitare La paura E l'errore In cui rischiavo di incorrere Era quello di vendere Più merce Di quella che avevo Cosa che ho fatto E quindi ho dovuto Mandare in produzione Cioè ho fatto E a un certo punto Però mi sono dovuto fermare Perché io avrei potuto fare Overselling Come la compagnia aerea Guarda Il minimo avrei potuto fare Due dischi di platino In due settimane Se l'avessi fatto Mi sarebbe arrivato Il disco di platino È 50.000 copie certificate 50.000 E effettive Devi venderne 48 Perché GFK Non ha una rilevazione capillare Quindi dice Se io Ne ho rilevate 48 Vuol dire che sicuramente 50.000 ne ha meno Ok Se io avessi fatto 100.000 copie In due settimane Mi sarebbe arrivato Uno tsunami Di merda E quindi ho detto Mi fermo qua Non faccio più niente In modo tale che Ho portato a casa Il risultato Che volevo fare io Sono contento di questo Ho capito La mia forza E la forza anche Del mercato E come reagisce il mercato Rispetto a questo tipo Di iniziative Mi fermo qui Perché in questo momento Sono in un periodo Della mia vita In cui non ho voglia Di fare la guerra Con nessuno Poi più avanti Ci vedrà Anche perché comunque Una volta che hai sdoganato Questo concetto Poi la tipologia di prodotto Che vai a vendere Può essere Di tutto Di tutto di più Quindi questo è interessante È molto bello Perché a quel punto Puoi avere il fedex box Capito Dove ti abboni Suscription Ma perché ad oggi Il fisico Non ha più Non ha più senso Andare a comprarti Il disco fisico Quindi deve assumere Delle sembianze E deve avere Una dignità Completamente diversa Rispetto al progresso Però hai questa vocazione Imprenditoriale Infatti io quando Ti osservo Io vabbè Sono un po' In volto più vecchio di te Però ti osservo Dall'esterno Dico Insomma Chissà cosa farà Nei prossimi 10-15 anni Perché Io faccio tante cose Che non si sanno Che non paleso Io faccio tante cose Al di fuori della musica Io ho collaborato Sono stato il primo artista Guarda Quando mi sono appassionato Di start-up Un giorno vado su Google E scrivo Start-up Con più soldi in ita Te lo giuro Ho fatto questa ricerca qua Ho fatto start-up Con più soldi in ita E leggo che avevo chiuso Di lì a poco Un round grosso Di investimento Soundriff Ok E mi leggo Cos'è Soundriff? Mi leggo Vuole fare la guerra La CIA Ha il diritto d'autore Un monopolio Che esiste da 150 anni Perfetto Dove sono ad oggi Ha niente Perché era difficilissimo E allora io gli chiamo E gli dico Ragazzi Volete una consulenza? Io ho fatto da consulente per loro Mi sono prodigato Perché in primis Io credevo in quella causa Io sono stato il primo artista A firmare la fuoriuscita Dalla CIA Me ne sono andato via Faccevamo una guerra Contro i mulini a vento È uscita un'inchiesta Dell'Espresso Dove si dice Che CIA ha speso Ha investito Mezzo milione di euro Una società Non ha scopo di lucro Ha investito soldi Che dovrebbero aver comunicato A tutta la comunità Di CIA Mezzo milione di euro Per far intercettare me E l'amministratore delegato Di Soundriff Dal Mossad Di Servizi Segreti Io ho anche chiamato Poi l'amministratore Di CIA Per chiedere Mi hanno detto Eh ma sai Mi hanno proposto questa cosa Ho detto Boh vabbè Sembra normale Una piccola investigazione Cile E quindi Lì è stata una guerra vera Una guerra vera Dove Io Ho asserito Che la moglie Dell'ex ministro dei beni culturali Fosse In conflitto di interessi Hanno minacciato di querelarmi Non la moglie Che era l'unica Che avrebbe dovuto In caso Ma CIA E il ministro dei beni culturali Facendo capire Che forse una relazione Tra le due parti Ci fosse Tra politica E un ente Che non dovrebbe essere politico E abbiamo La cosa ancora più bella Che noi volevamo Aprire il mercato Che era la cosa più giusta Da fare Perché La concorrenza Esattamente come è successo Nel mercato Dell'energia La concorrenza Porta benefici Al fruttore finale Più opzioni Certo Più opzioni Volevamo attenere quello E per assurdo Abbiamo ottenuto anche Un risultato migliore Per la start up Ovvero Un bipolio Cioè Non hanno aperto le porte Tutto il mercato Abbiamo rotto Tanto le palle Che hanno aperto il mercato Però noi abbiamo fatto cadere Un monopo Cioè per me questa cosa Dal punto di vista Imprenditoriale Mi ha acceso un flash pazzesco Perché mi ricordo Lui come si chiama Davide Datili Davide Mi ricordo che Ci fu Il primo evento Di Tecrunch in Italia Tecrunch è Un sito di tecnologia E È un sito dove tu vai Porti tutte le start up No? In sostanza E io Conducevo l'evento E a un certo punto Dico Aspettate Fatemi andare nel pubblico A sentire se qualcuno qua Sta start up Ando oltre a quelli sul palco E prendo a caso Davide Sì Che era all'inizio E dico Dai cosa fai tu? Ma io faccio Some riff E vorremmo fare così Lui è veramente bravo Perché guarda che per fare Una cosa del genere È lunga È lunga Devi avere due palle Una pazienza E Per cui tu hai investito Hai investito dentro lì O sei come advisor O Faccio consulenza E cerco di dare una mano Cerco di dare una mano Quando c'è da metterci la faccia C'è da veicolare comunicazioni Che se facesse magari Davide Con me diventerebbero più Massificanti È un lavoro proprio di prima linea Però è stata una battaglia Molto forte Cioè in questo momento Sound riff è un diretto Competitor di SIA Loro comunque ne hanno Tantissimi Arruolati tanti Di artisti giusto che sono passati Però noi siamo partiti che eravamo Zero Mi ricordo Erano pochissimi Erano veramente pochi E poi Loro hanno questo sistema Diciamo in real time Di rilevazione Loro pagano rispetto Adesso io non so come si sia Adeguata SIA in questo momento Quindi non voglio dire In esattezze Però rispetto ai tempi Avevano Loro hanno Avevano il bordero elettronico Che poi SIA Ha immesso anche loro Però loro Vedi La concorrenza Porta innovazione Quello è Quello è innegabile Tu puoi dire tutto Ma il mercato libero È quello che porta Io però poi ti ho visto investire Anche da altre parti O muoverti Io ho aperto una mia start up Su chatbot Su chatbot fondamentalmente Abbiamo fatto parecchi round di vestitori Io ovviamente non mi occupo Della gestione in prima persona Mi sono occupato di fare I round di investimenti Che sono andati molto bene Io sono un bravo venditore Ecco In quello sono molto bravo Hai bussato ai vestiti Dicendo Ciao sono Fedez No ho presentato una cosa Che ho imparato a conoscere Mentre la vendevo Però avere degli incutori Interlocutori importanti Gli investitori importanti E riuscire a convincere Quegli investitori lì Vuol dire È una cosa che a me piace Tanto quanto stare sul palco È una cosa che mi dà Il brivido Che mi può dare Lo stare sul palco Quindi è una cosa Che per me viaggia Di pari passo Ma guarda che sai L'investitore Non ti dà del grano Perché Gli stai simpatico Sei famoso Cioè È proprio una valutazione Cinica Anzi Se magari sei un personaggio famoso La partenza è Ma poi tu conosci anche Alcuni investitori Sai benissimo Sono persone Che vogliono vedere i conti Per cui Piacere i primi due minuti E poi Fammi vedere O dei risultati O fammi vedere Che c'è una visione Chiara Se no Nessuno sgancia Insomma Quindi questo è È un aspetto interessante Però è un mondo Che mi ha Mi ha sempre affascinato Però più che il mondo Della tecnologia Del tech Ma è proprio L'idea La vision Io forse Ho arricchiamo Ho arricchito il mio bagaglio culturale In maniera Prettamente personale Senza alcun tipo di formazione Ma ti sei formato come? Cioè sul campo Ti stanno provando Oppure leggendo Dici ok adesso mi leggo Seth Godin Piuttosto che In prima linea Sul campo Io quando Ho iniziato Quando la musica È iniziata a diventare Un mestiere Ero sotto un manager E ho iniziato A voler capire Come funzionasse Il lavoro del manager I contratti E ho iniziato a trovare Delle cose Di gestione Torbida Anche lì C'è sentito Eh ma è molto facile È un settore anche Nella discografia È molto facile E a volte Sono gli stessi artisti Che permettono Cioè io non credo più Nella visione del manager Che ti ruba No sei tu che devi Perché se tu deleghi E fai fare tutto Non dico che te lo meriti Però È come il commercialista Che ti gestisce tutto Se hai veramente fame Certe cose Non permetti che accadano Quindi ho iniziato A studiare i contratti A leggere i contratti A capire come si fa un contratto A capire le prelazioni Le clausole contrattuali Gli anticipi minimi Garantiti non restituibili E mi sono aperto Insieme a J-AX Abbiamo aperto Quest'etichetta Che in realtà Inizialmente Era una vera e propria Scatola cinese Cioè nel senso Era un'etichetta Per uccidere i costi Cioè non avere Kill the middleman Non avere il manager L'intermediario Avere un ufficio Pagare l'ufficio E guadagnare molto di più da noi E poi piano piano Il primo Il paradigma Del grande successo Che abbiamo ottenuto Con una cosa che Nessuno ci avrebbe puntato 2000 lire Però noi Io in primis Ci sono stato È stato Rovazzi Su cui Non è tanto Il Far esplodere Il talent Che Lì ti puoi andare di culo È un allineamento Di pianeti Dici Bo Capita Chiunque può fare Una hit Ma è saper gestire Quel talent E saper capitalizzare Costruire Un'immagine E farlo durare Far durare Un personaggio Che era Individuato come Un One hit wonder Cioè una persona Che fa una canzone E poi sparisce Perché non era nato Come un artista Farlo durare Per quattro singoli Quanti ne abbiamo fatti insieme Tre Quattro Adesso mi ricordo Era una cosa Che tutti Rimanevano a bocca aperta E voi producevate Fabio Quindi Noi eravamo Il management Ah ok Non sapevo Noi eravamo Il management Nell'azienda Io sono sempre Stato quello Con le redini Axe è sempre Stato un socio Però la visione E non Non l'abbiamo mai Nascosto a nessuno La visione Chi prendeva le redini In mano delle cose È sempre stato io Pensa Io ti conosco poco Però La prossima cosa Che stavo per dirti Era Ti vedrei bene A gestire però Non solamente Come performer Ma a gestire Altri personaggi Essere quello Dietro le quinte Lo faccio Mi piace farlo È difficilissimo Da fare Perché quando Lavori con gli artisti È molto difficile Da fare Tante prime donne Non è questione Di prime donne Io Di me Nel settore discografico Si dicono tante cose Sono stronzo Sono cinico Sono guerrafrondaio Però una cosa Che non sentirai mai Dire di me Che sono una persona Disonesta Che ruba Sono molto trasparente Perché Io ho la grande fortuna Di poter fare queste cose Per passione E non perché Ho una reale esigenza Di dover guadagnare Dei denari Da altri Io sono molto indipendente Dal mio punto di vista E quindi Cerco sempre Di dare il più possibile A volte più dai Dai un dito E ti si piglia Tutto E quindi È molto difficile È molto difficile Da fare Però Ho dei bellissimi ricordi Cioè Io non rinnego nulla Di quello che abbiamo fatto Con Fabio Di quello che abbiamo fatto Con Axel Abbiamo fatto delle grandi cose Indipendentemente dal lato musicale Che ovviamente Non abbiamo fatto Cose alte In termini musicali Però in termini discografici Abbiamo fatto delle cose belle Secondo me Però scusami In questo caso Tu non utilizzi neanche Cioè Tu sei un media Tutti gli effetti No? Perché Con l'audience che hai Tu puoi essere da trampolino di lancio Per chiunque Beh con Fabio Ho fatto Con Fabio Ho fatto così Con Fabio Ma poi anche lì Io mi ricordo In quel periodo discografico Tutti si Ci dipingevano E ci etichettavano Come una sorta di lobby Discografica Che a tavolino Aveva creato Questo Questo mostro No? Come se C'è come Una Una catena Una catena di montaggio Della discografia Cosa che non era vera Cioè Fabio Fa la canzone Se la fa per i fatti suoi Perché poi Tutto quello che era L'artistico Se lo vedeva lui Noi gli mettevamo a disposizione I mezzi Per poter fare queste cose E amplificavate il messaggio Certo Poi Siamo bravi a chiudere Con i brand Siamo bravi a Portare in televisione Però inizialmente Fabio veniva in vacanza con me Perché era un mio amico E quindi facevamo Dei video dare insieme Eravamo sempre insieme E La spontaneità Con cui è nata questa cosa Secondo me Si è percepita E io Difficilmente Infatti poi Le separazioni Nascono proprio perché Io non riesco a vivere Queste cose in maniera artefatta Anche perché Errore che faccio grande È mischiare Molto l'affettività al lavoro E quindi a un certo punto Non riesco a recitare la parte Siamo separati in casa E poi riflesso di Pavlov Davanti alle telecamere Per cui Tu oggi Hai anche una gestione Di altri artisti Altri artisti Che fai già? Faccio già Alcuni neanche mi paleso Perché non ho Esigenza Di dover dire Ehi Sono qua io Anche perché magari Se ci sei tu Le schiacci No posso essere Dell'eterio Per loro io Ma in questo caso Se non gli fai Da amplificazione Tramite il tuo media Gli dai Gli fai da mentor In sostanza Ma io C'è un ufficio Di dieci persone Ok C'è proprio Delle divisioni Che si occupano Di varie tipologie Di talent Che si occupano Di brand content Ho una persona Che ha fatto Per anni È stato Il capo Della divisione Marketing E new business Di Universal Quindi ho persone Capace Ho preso persone Proprio dalle measure E me le sono portate In azienda Che fanno la gestione Dell'artista Esatto Wow Beh poi col tuo occhio Social a quel punto Sì non è facile Non è per niente facile È molto difficile Però è una cosa Che mi piace fare Mi piace molto farla Sai cosa Io quello che vedo Lato social Nel mondo del business Quando mi dicono Monti ok Ma io Coca cola Come comunico online Come devo comunicare online Il problema è che spesso Quello che funziona Per te O per me Se tu lo sposti Telkel Su un'azienda Che vende Capito Cioccolato It doesn't work Quindi devi trovare Ogni volta La giusta modalità In questo caso L'azienda contatta me Io riesco a fare in modo Che l'azienda venda Tramite me qualcosa Sì sì Se passa da te Se però tu sei Col cappello di consulente Dici ok Io mi tolgo di mezzo E devo Secondo me però Il retaggio di molti Uffici marketing Di grandi aziende Io sono riuscito Con grande fatica A spezzare Un certo tipo di Paletti Pregiudizi Che sono difficili Da sradicare Vorrei farti degli esempi Ma non mi vengono Non si può Non si può Se non ci arrestano Super E da qui ai prossimi anni Hai già in mente Qualche cosa Sei un pianificatore O vai Diciamo Estinto Ero Ero un pianificatore Poi la nascita Di un figlio Ti fa capire Che A un certo punto Il tuo lavoro Diventa la tua vita Ti fa gocita Quindi ho Smesso di pianificare Cioè so che Farò tante cose Sia musicali Mi prenderò il mio tempo Fortunatamente perché Posso permettermelo E devo farlo Per la mia salute Per il bene della mia musica Farò tante altre cose Sia insieme a mia moglie Che da soli Abbiamo tanti progetti In ballo Tante idee E questo è bello È un periodo di grandi idee Che devono prendere vita E ho smesso di pianificare Perché se no Non riesci a goderti la vita È proprio Difficile Godersi il presente Continuando a pensare A cosa devi fare domani A me piace molto Un americano Jason Fried Che ha una start up Si chiama 37 Signals Ha scritto un po' di libri Uno si chiama Rework E l'altro It doesn't have to be crazy at work E lui è in Controtendenza totale Rispetto Alla Silicon Valley H24 Lavora che 24 Crescita pazzesca E lui è tutto nel presente È tutto sul Non abbiamo goal Non abbiamo Ma non perché non siamo ambiziosi Ma perché Cerchiamo di fare Molto bene L'eccellenza Rischiare di diventare Il tuo più grande nemico Rischiare di diventare Cioè te stesso Diventa il tuo più grande nemico Diventi il più grande nemico di te stesso Non c'è mai fine Perché adesso Fai questo tuo Poi c'è un altro Non c'è mai Un momento in cui dici Sono a posto È sempre La prossima cosa Poi se vuoi fare anche altre cose nella vita Devi imparare a ritagliarti dei momenti Io non ho mai avuto il tempo Ho sempre fatto tante cose Ma non ho mai avuto il tempo Di potermi concentrare anche su altre cose E quindi ho eliminato per esempio la televisione È stata un'esperienza formativa molto bella Mi ha insegnato tante cose Però a un certo punto mi ha dato tutto Mi ha dato tutto Quanto conta ancora la tv per vendere musica O vendere biglietti di concerti Che peso ha se tu dovessi dire Social, giornali, televisioni Sei per tre Zero Quando io sono andato a fare il giudice di X Factor Prima di me Tutti i giudici Adesso non è per Non voglio insultare nessuno Però effettivamente se tu vuoi vedere lo storico Di tutto il progresso di X Factor E degli altri talent Erano sempre musicisti cantanti Che nel bene o nel male Avevano concluso la propria carriera Quindi nessuno era mai riuscito a Implementare la televisione Per ottimizzare e per massificare La propria audience Io sfidando questa cosa qua Sono riuscito per assurdo a farla Perché poi a me X Factor Io quando ho fatto X Factor Il primo anno avevo 23 anni Ero uno dei giudici più giovani di sempre E forse la Tatangelo Era la più giovane È stata la più giovane Però fu molto difficile per me Perché X Factor poi non è un tavolo per tutti In quel periodo Oggi non è più così Ma in quel periodo avevo un pubblico Molto selettivo Che puntava molto sulla qualità Sulle credenziali E io sono arrivato con l'aspettativa Di un narcotrafficante Fondamente di uno scafista E siccome l'aspettativa era pari a zero Appena coniugavo un congiuntivo perfettamente Dicevano Cazzo sei congiuntivo E quindi mi ha permesso di farmi conoscere Di farmi conoscere Di far vedere che nonostante l'apparenza C'erano delle idee C'era della forma C'era della sostanza Oltre che della forma E quindi a me è servito Però non sempre è così A volte può essere un detonatore A volte può far male A volte ti può affagocitare Però il peso per vendere oggi è social Quindi se tu devi vendere un tour lo vendi Il peso per vendere è la musica Ok Una volta che la musica è valida Il canale di comunicazione oggi che funziona Per la tua esperienza è Ad oggi i dischi più venduti in questo momento Sono di personaggi che fanno solo streaming Non vengono passati in alta rotazione nelle radio E non vanno in televisione Quindi questo è Cartellonistica sei per tre e roba così? Tu hai fatto qualcosa? Si si fa molto Per brand? No si fa molto nei live ultimamente Si usa molto per i live Io mi sono accodato a questa moda qua Però non penso che serva più di tanto Pensa che io per il mio secondo libro Il prossimo anno Volevo prendere tutta una serie di cartelloni Io ho preso Siccome tutti prendevano i cartelloni Non so la metro Quelle robe No io mi sono preso quello più grosso di tutti Che è quello in Gavolenti In Gavolenti Che è il cartellone più grosso d'Europa Ho detto vabbè se devo farlo Credo Faccio in grado Ma anche sul Duomo Ho visto Adesso io non bazzico tanto Diciamo Quando Ma sul Duomo puoi metterli Gli puoi appiccicare No Ma io ho visto la pubblicità Quando c'erano le impalcature Non so se ci sono ancora Quando ci sono le impalcature Che lo puliscono Gli spari sopra la pubblicità Ottimo Molto bene Va bene È stato un piacere Super